Lo scopo principale è quello di sotturare una ferita della memoria che è rimasta ancora aperta, cioè quello delle vittime e delle fobie, dei parenti delle vittime e delle fobie e dell'esodo. Ma nel far questo la legge istitutiva sottolinea anche l'opportunità di non fare soltanto memoria di queste tragedie, ma di parlare anche delle altre complesse vicende del confine orientale. Questo è corretto, perché per capire un fenomeno conviene sempre contestualizzarlo, naturalmente. Con buon senso. Ogni testo si capisce inserito nel suo contesto. Se però si inserisce troppo nel contesto, questo diventa un pretesto per non parlare degli argomenti. Capitolo scuola. I ragazzi come hanno dimostrato e se hanno dimostrato interesse per le vicende del confine orientale? Moltissime scuole in Italia hanno dimostrato un enorme interesse per questa scuola. Io dalla fine degli anni 90, ma assieme con me una patuglia di altri storici locali, giriamo l'Italia veramente come trottole chiamate da tantissime scuole. Con il giorno di ricordo questo si è moltiplicato e gli insegnanti dicono, io non parlo direttamente con gli studenti, se non in poche occasioni, che l'interesse è molto alto. Paradossalmente è più nel resto d'Italia che nelle nostre terre? Io posso dirlo per me. Probabilmente gli insegnanti di Trieste conoscono già tutto, non hanno bisogno di chiamare degli esperti, evidentemente. Dal resto d'Italia sì, sicuramente si fanno grandi difficoltà a rispondere a tutte le domande di interventi, ma non soltanto di lezioncine, di costruzione di veri e propri percorsi didattici sulle storie delle vicende del confine orientale. Da parte di alcuni studiosi è stata criticata l'istituzione del giorno del ricordo, considerata un punto di partenza per un processo di revisionismo. Da studioso della materia come risponde? Che temo ci sia un po' di pregiudizio politico in questi interventi. Allora, il giorno del ricordo, secondo me, è stata un'iniziativa doverosa e tardiva, proprio perché ha consentito in qualche modo, almeno minimamente, di fare una sorta di risarcimento morale nei confronti degli esi e delle vittime delle folle. Certamente questa celebrazione, come tante altre, si presta ad essere gestita in maniera varia. Talvolta è gestita male e anche attualmente è gestita malissimo, in senso divisivo, cioè nel senso che una parte politica cerca di appropriarsene presentando una versione nazionalista della storia di frontiera. Questo è un tradimento dello spirito della legge. Era una legge che mirava ad unire, non a dividere. Proprio a far sì che queste tragedie, le loro memorie e la conoscenza critica di queste tragedie non fosse patrimonio soltanto di una parte della nazione, ma fosse patrimonio di tutta la nazione italiana. In questo senso vanno proseguite le iniziative del giorno del ricordo. Lei ha pubblicato un libro adriatico amarissimo che ricostruisce le vicende del confine orientale andando alle radici dei contrasti tra diverse nazionalità. È possibile definire la fase storica dalla quale tutto è partito? Il mio libro si concentra soprattutto sulle logiche della violenza. E allora noi vediamo che le logiche della violenza politica, le esplosioni di violenza politica sono strettamente connesse con le due guerre mondiali. La periodizzazione che io ho scelto comincia il 23 maggio del 1915 quando alla vigilia delle entrate in guerra dell'Italia a Trieste scoppia una sorta di pogromanti irredentista. L'ho chiamata la stagione delle fiamme perché va a fuoco il piccolo e vanno a fuoco le sedi del movimento irredentista. Poi questa stagione delle fiamme prosegue nel dopoguerra. Abbiamo il rogo del Narondidom, il rogo delle sedi socialiste, il rogo del cantiere San Marco. Ecco, si innesca una spirale di violenza che ha alcuni picchi. La stagione delle fiamme vicino alla grande guerra e la stagione delle stragi molto più dura invece nella prossimità della seconda guerra mondiale in cui esplodono logiche molto molto più devastanti. Siamo nel 2022, ancora difficile affrontare il tema del confine orientale. Continuano le polemiche, le contrapposizioni? Di per sé il giorno del ricordo deve essere un momento di unità. Abbiamo avuto un esempio meraviglioso nel 2020 con l'incontro dei presidenti che hanno indicato una strada. C'è qualcuno che fa ancora molta fatica a seguire questa strada ma quelle sono le buone pratiche e i buoni esempi. Ci sono le difficoltà, però devo dire ci sono anche un numero elevatissimo di iniziative che seguono quel percorso, che affrontano il giorno del ricordo in maniera pietosa perché deve essere pietosa ma anche rigorosa. In questo senso la rielezione del presidente Mattarella è un bel segnale per il processo di riconciliazione? Beh naturalmente sì, il presidente Mattarella non solo ha manifestato grande sensibilità nei confronti di queste problematiche ma antegrano anche coraggio assieme al presidente Pacro. Io spero quindi che dall'alto continuino a venire buoni esempi e che il resto non tanto della società, perché la società è variegata, ma dell'istituzione o delle forze politiche si pongono su questa traiettoria e cerchino addirittura di compiere qualche passo avanti. Per quello che si può, nelle realtà in cui sono presenti insieme a tanti altri, cerchiamo di seguire questa strada con buone pratiche.